Musica Bentornati ad una nuova puntata di Avvocati Rispondono. Oggi parleremo di licenziamento. Legittimo o inefficace? Sentiamo l'Avvocato Pollastro. Buonasera a tutti. Viviamo in un'epoca in cui siamo sommersi di informazioni, televisive, internet. Ma io ho come la sensazione che ci troviamo ancora in un scenario in cui le comunicazioni, le informazioni, le notizie vengono trasmesse in forma orale. A volte passano delle informazioni che sono assolutamente infondate, prive di logica. Adesso io dirò una cosa che chi mi sta ascoltando dirà, ma quello è matto, quello sta dicendo, non sta in piedi. domanda, può un lavoratore ammalato essere, mentre è malato, licenziato? Lo sanno tutti. No! E invece è sbagliato. E invece è totalmente sbagliato. È un'informazione falsa che induce molti lavoratori ad una situazione di tranquillità che invece è assolutamente ingiustificata. E mi voglio spiegare, perché un datore di lavoro può licenziare? Le categorie di licenziamento sono sostanzialmente due. La giusta causa e il giustificato. Motivo che non sono la stessa cosa, attenzione. La giusta causa è in linea di massima. I giuristi in questo momento potranno criticarmi, perché sto molto semplificando, ma proprio per essere chiari. La giusta causa è essenzialmente un motivo legato a un comportamento del lavoratore. A ragioni che siano collegabili a quello che il lavoratore ha fatto o si ritiene abbia fatto. E quindi è, in buona sostanza, un provvedimento di natura disciplinare. Il giustificato motivo, soprattutto quello di carattere oggettivo, cosiddetto, è un motivo legato all'azienda. Caso tipico. L'azienda non va bene, il datore di lavoro non ha più lavoro da dare a tutti i propri dipendenti. È legittimato, è autorizzato, non c'è un obbligo di tenere i dipendenti. Il datore di lavoro può ridurre il personale. Allora, allora, quando il lavoratore è ammalato, un licenziamento per giusta causa, cioè un licenziamento ad esempio a natura disciplinare, può sicuramente essere fatto. Se il datore di lavoro scopre che il lavoratore ha commesso fatti gravi che comportano la possibilità di licenziarlo, che sia o non sia malato, il licenziamento si applica. Punto. Se invece ci troviamo di fronte a un giustificato motivo oggettivo, cioè quindi collegato alle esigenze dell'azienda, il licenziamento anche qui è possibile, ma rimane sospeso. Sospeso per tutto il periodo in cui dura la malattia, cioè in buona sostanza. Il lavoratore viene licenziato oggi, ma è ammalato. Non è che il datore di lavoro non può licenziarlo. Quel licenziamento rimane temporaneamente inefficace, dicono le sentenze. Cioè in buona sostanza, per tutto il periodo che dura la malattia, il lavoratore avrà diritto alla continuazione del proprio rapporto di lavoro, ma quando finisce la malattia, come dire, il licenziamento assume efficacia. Il che vuol dire che il licenziamento di un lavoratore malato è possibile, potrebbe essere temporaneamente inefficace. Questo però porta ad una conseguenza. Quanto tempo ha il lavoratore per eventualmente opporsi, per impugnare un licenziamento? Noi sappiamo che il lavoratore può impugnare entro 60 giorni. E c'è anche qui una leggenda metropolitana, un comune sentire che dice da quando finisce il rapporto di lavoro. Nel caso che abbiamo visto prima, quando è finita la malattia, sbagliato, sbagliato, da quando il lavoratore riceve la lettera di licenziamento. Quindi potrebbe essere che il rapporto di lavoro prosegua anche, magari anche per due, tre, quattro mesi, perché la malattia prosegue, ma il licenziamento c'è già stato e quindi se il lavoratore vuole impugnare, ritiene di potersi opporre, perché ritiene quel provvedimento ingiusto, illegittimo, infondato, deve farlo entro 60 giorni, da quando ha ricevuto la lettera, la comunicazione del licenziamento, non da quando è finito il rapporto di lavoro. Perché molte persone si confondono? Immagino che molte persone si confondono, perché invece è l'indennità di disoccupazione presso l'Inps, la Naspi, che uno può chiedere entro 68 giorni, in quel caso, da quando è effettivamente concluso il rapporto di lavoro. Ma l'impugnazione di una lettera di licenziamento, tanto per parlarsi chiaro, va fatta entro 60 giorni da quando uno la riceve. Quindi non da quando cessa il rapporto di lavoro, ma da quando uno la riceve. E ricordarsi, non fidarsi, quindi, ciecamente, di quello che si sente al bar, in giro, sul tram e cose del genere. Un lavoratore ammalato non può dire, ah ma tanto ero ammalato. No, un lavoratore ammalato può essere licenziato. Poi vedremo se quel licenziamento è legittimo o non è legittimo, ma può sicuramente, legittimamente essere destinatario di un provvedimento di licenziamento. Grazie. La successione. Che cosa bisogna tenere presente e quali sono le norme giuridiche importanti? Sentiamo l'Avvocato Bortolotti. Allora, parliamo dell'eventualità ovviamente triste che concerne la scomparsa di una persona cara e quello che poi occorre porre in essere dal punto di vista burocratico e legale quando appunto si apre una successione. è importante conoscere alcuni aspetti fondamentali e determinanti perché poi spesso in quelle situazioni magari risulta anche difficile essere particolarmente attenti e lucidi ad alcune situazioni che però sono dal punto di vista legale e fiscale assolutamente determinanti. Quindi, in via molto sintetica e concreta, vediamo di capire che cosa occorre tenere presente in queste appunto tristi circostanze. Allora, può essere che la generalità delle persone pensi che la dichiarazione di successione sia la procedura e il passo più importante e più urgente a cui fare riferimento. Allora, sotto un certo aspetto può essere vero, ma è esclusivamente l'aspetto fiscale, tributario. Non è un atto, un passo determinante per quanto riguarda l'apertura della successione e l'accettazione dell'eventuale eredità, ma facciamo un passo alla volta. Allora, concentriamoci un attimo sulla dichiarazione di successione. La dichiarazione di successione è un atto di natura meramente fiscale a carico degli eredi, cioè delle persone chiamate all'eredità, che ha il compito, lo scopo di informare l'agenzia delle entrate di quella che è la consistenza del patrimonio che cade in eredità, ossia dell'asse ereditario, perché ovviamente sulla base di questa consistenza vengono calcolate delle imposte che sono a carico di chi eredita, erede per testamento o erede legittimo. Occorre tenere presente, e questo è molto importante, che ci sono 12 mesi di tempo per adempiere a questo passo importante, 12 mesi ovviamente dall'eccesso, dall'apertura della successione. È molto importante rispettare questa scadenza perché una volta superata possono maturare delle sanzioni anche molto pesanti dal punto di vista fiscale. Ricordo che da alcuni anni la presentazione della dichiarazione di successione si fa solo in via telematica e si può fare attraverso degli intermediari abilitati, commercialisti, notai e il CAF. È assolutamente consigliabile, vista la natura, la delicatezza e anche la complicazione di questo atto, rivolgersi sempre comunque ad un professionista, perché basti pensare che vanno dichiarati e scoperti, scovati tutti i beni mobili e immobili e tutti i diritti di credito che facevano riferimento, possono fare riferimento alla persona scomparsa e questo è un lavoro veramente complicato che spesso coinvolge anche le banche e cui procedure non sono affatto semplici. Questo per quanto riguarda la dichiarazione di successione che però come dicevo all'inizio non è l'aspetto più importante nell'ambito della successione perché una volta che ci troviamo nella situazione di essere possibili eredi dobbiamo tenere a mente alcuni aspetti assolutamente determinanti. Allora in primo luogo occorre cercare di capire se lo scomparso ha fatto testamento, quindi testamento olografo sia scritto di suo pugno e magari sistemato in casa dove teneva di solito documenti e le cose importanti oppure un testamento pubblico o segreto affidato ad un notaio, questo perché ovviamente da questo dipenderà la successione legittima, ossia secondo le norme, solo le norme della legge oppure la successione testamentaria che segue appunto le ultime volontà scritte del defunto. Occorre poi assolutamente tenere presente che ci sono dieci anni per accettare l'eredità, quindi per diventare da chiamato all'eredità ad erede vero e proprio, ma bisogna assolutamente tenere presente che l'accettazione dell'eredità può essere anche tacita, ossia nel momento in cui io, pensando che non sia un adempimento così importante, compio degli atti che fanno inequivocabilmente capire che io voglio essere erede, ossia pago le spese condominali della casa che mi spetterebbe per successione, faccio questo esempio, io ho già automaticamente accettato l'eredità. Questo cosa vuol dire? Che se l'eredità comporta un grande attivo è per me un bene, ma se comporta anche un grande passivo non è affatto un bene, ossia mi porto a casa anche dei debiti. Quindi se si hanno dei dubbi, se non si hanno dubbi, si accetta l'eredità, lo si può fare anche in maniera espressa andando in tribunale o da un notaio. Se si hanno dei dubbi è assolutamente consigliabile accettare l'eredità col cosiddetto beneficio di inventario. Cosa vuol dire? Vuol dire che occorre, se si ha appunto questo dubbio, se ci convenga o meno accettare l'eredità, occorre precarsi da un notaio oppure in tribunale da un ufficiale giudiziario, dichiarare che si intende accettare l'eredità con il beneficio di inventario e da quel momento si hanno 3 mesi e 40 giorni, 3 mesi per fare l'inventario che farà ovviamente il notaio, un professionista a cui verrà dato questo compito importante e 40 giorni per decidere se si accetta o meno. Questa è una procedura molto molto importante, lo capiamo da soli, perché se veniamo a scoprire che anche un lontano parente ci ha lasciato in eredità dei beni, dobbiamo assolutamente avere la prudenza di capire se insieme ai beni che ci vengono lasciati non ci viene lasciato anche un grande passivo che potrebbe comportare dei grossi problemi patrimoniali. Anche per oggi abbiamo terminato, se avete domande per i nostri avvocati potete scriverci avvocati rispondono chioccioleicomizio.it